È arrivato il momento che vi parli di Io scrittore 2024. Sigla. Ho già fatto una serie di video su Io scrittore nel 2023 e sono qui per parlarvi di Io scrittore 2024. Per dirvi prima di tutto che partecipo anche quest'anno con un terzo romanzo, quindi ogni anno sto partecipando con un romanzo diverso, cosa che non è obbligatorio fare anche se nella premiazione dell'edizione 2023 uno dei capoccia del torneo ha detto che ogni anno si deve partecipare con un romanzo diverso e che non è possibile usare sempre lo stesso romanzo. Questo non è vero, si può usare mille volte lo stesso romanzo per mille edizioni, ma io sto facendo così perché i miei romanzi stanno vivendo di vita propria in qualche modo, poi ve ne parlerò in un altro video dedicato. Quindi ho postato il mio terzo romanzo, quello probabilmente migliore di tutti, quello che comunque nel 2025 avrà uno sbocco, che sia in casa editrice, che sia self-publishing, adesso ci sto pensando, è stato fatto un editing, un romanzo veramente infiochettato e scritto come dio comanda, di cui sono orgoglioso. Quindi l'ho mandato lì per sentire pareri, per sondare un po', vediamo come va, non ho aspirazioni di vittoria, veramente, questa volta più romanzo, non lo so, forse non è adatto il scrittore, per questo motivo l'anno scorso non l'ho usato per parteciparvi. Comunque, quest'anno ci sono alcune novità per quanto riguarda le nozioni tecniche come inserire i dati, come formattare, eccetera, vi rimando ai tre video sul dio scrittore 2023 che sono ancora attualissimi. Vi volevo dire un paio di cose sulla principale novità che è stata introdotta in questo torneo 2024 e alcune mie riflessioni su cosa cambierei nel torneo. Sì, perché questa è una di quelle cose di cui si parla sui vari gruppi Facebook, Satelliti, Aio Scrittore, quelli che vi ho menzionato nei video precedenti e quindi alcune cose, alcune cose su cui si è riflettuto insieme, alcune cose sono semplicemente mie riflessioni di cui volevo parlarvi. Questo sarà probabilmente un video più breve degli altri e quindi facciamo le cose un po' in fretta. Ho stampato un foglio dove ho inserito appunto le nuove categorie che sono state introdotte in il mio scrittore 2024, delle vere e proprie sottocategorie. Qua a fianco adesso farò comparire l'immagine dove ci sono elencate così le potrete leggere comodamente. Ma insomma, le categorie sono fantasy sbarra paranormale, narrativa distopica sbarra fantascienza, romanzo di sentimenti, romanzo storico, narrativa generale sbarra altro, viaggio, avventure e azione, noir, giallo, thriller e misteri, romance, romantic comedy, romanzo di famiglia, di formazione, romantasi, horror, young adult, autofiction. Autofiction, non ho idea di cosa sia. Questo romantasi è un fantasy romance, capite? Hanno aggiunto delle sottocategorie in modo da rendere più facilmente collocabili e classificabili alcuni romanzi. Questo sicuramente, sicuramente perché nel 23 hanno aperto anche la sezione giovani, che sotto i 30 anni ha un diritto a un premio speciale e viene pubblicato come vincitore della sezione giovani. E quindi è chiaro che alcune categorie, sotto categorie come romantasi, young adult, autofiction, romantic comedy e anche, cosa c'era, romantasi, sono chiaramente categorie dedicate ai giovani, secondo me. L'altra cosa interessante è che si possono scegliere due categorie o sotto categorie. Quindi uno potrebbe essere, per esempio, un romanzo di viaggio e contemporaneamente un giallo, per dire. Quindi questa seconda categoria, questo appartenere a due categorie, è chiaro che qualunque cosa può riassumersi nella narrativa non di genere, nella narrativa generale o mainstream, però diciamo che questa ulteriore frammentazione in generi a me ha lasciato un po' perplesso per un motivo. E il motivo è il solito di quello di cui parlo nei miei video, che come sapete questo canale Librarsi si occupa soprattutto di narrativa mystery, crime, thriller e così via. E il fatto di riassumere noir, giallo, thriller e misteri, dove misteri in realtà è quasi la definizione di giallo. Secondo me l'errore marchiano che è stato fatto in questo caso è stato di non scorporare il noir dal giallo, o meglio il noir e il thriller dal giallo. Se volete, se non volete fare tre categorie diverse, almeno due, giallo e misteri noir thriller doveva essere, addirittura tre sarebbe stato giusto, perché anche se sono romanzi comunque cosiddetti crime, ci sono grandissime differenze. Io vi ho fatto il solito video giallo noir thriller, quali sono le differenze, quindi non riprendo la cosa adesso, se no finiamo dopo domani. Però, secondo me, questa categoria così importante, la seconda più venduta dopo i romance, doveva essere scorporata in almeno due se non tre sotto categorie. Perché la gente non sa neanche, tutti questi che scrivono, che partecipano, non sanno la differenza tra un noir e un thriller e un misteri e un giallo. Tant'è vero che l'anno scorso quando ho partecipato, una delle critiche è stata quella che non sembra un giallo, non capisco perché, ma è chiaro, se io non ho scritto un giallo, è ovvio che non sembra un giallo che era un noir. E per cui, capite anche l'incompetenza di chi vi legge queste cose, ve le ho già dette nei vecchi video. Ma sarebbe stata una buona mossa far capire a chi scrive, a quindi chi deve leggere, che il noir non è un sinonimo di thriller e thriller non è un sinonimo di misteri o di giallo. Purtroppo a questo giro non hanno fatto, speriamo che questo messaggio arrivi agli organizzatori del torneo, perché non sarebbe male, perché su una categoria, su un genere così ampio, così in voga, sarebbe stato giusto, secondo me, dare un minimo di riconoscimento in più a quelli che ormai sono dei generi nettamente divisi. Ma comunque, anche il fatto di inserire una seconda categoria potrebbe essere l'opzione giusta per fare, io l'avrei fatta così. Delle macro categorie, c'è crime, è la seconda sottocategoria, cos'è? Thriller, giallo, noir, misteri, eccetera. Romance, romance di che tipo? Ta 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 ta, fantascienza, distoppico, high sci-fi e così via. Comunque, romance, romantasi, che ne so, sentimenti, chiamatelo come volete, non lo so. Io avrei fatto così, io non organizzo niente, vi sto dando le mie impressioni, le mie considerazioni a fronte delle novità, che sono quelle che poi si valutano volta per volta, le cose vecchie, è inutile parlarne. Detto questo, vi ho detto che partecipo anche questa volta, anche questa volta chiaramente con un romanzo di quelli che scrivo io, quindi un MTS, mystery, thriller, suspense li chiamavano prima, giallo noir thriller. E quindi, vediamo, vediamo come andrà. Potrebbe essere anche un narrativa generale, volendo quello che ho scritto io, vediamo come la prenderanno. La cosa che vi volevo dire è che io adesso, in questo video, siccome le cose tecniche ve le ho già raccontate, nell'altro è l'unico aggiornamento di peso, è sostanzialmente questo. Poi c'è chiaramente una postilla nel fatto che se uno vuole rifiutare la pubblicazione tra i dieci vincitori, la può rifiutare, perché sostanzialmente, come vi ho detto negli altri video, diventa un print on demand, è l'equivalente di un self-publishing, perché loro scrivono che sarà un editing accurato, adeguato per le opere vincitrici, tutti quelli che hanno vinto in realtà negano questo grosso passo di editing nei romanzi. I vantaggi, ve li riassumo, sono quelli che mettono anche loro e che sono innegabili. C'è che è un concorso gratis, che si viene pubblicato in una delle case editrici del gruppo James, vi ho detto, ce ne sono tantissime, andatevi a guardare i vecchi video, cosa che non ha garanzia di altissima qualità, perché alcune sono case minori, altre sono case importanti, ma comunque un libro con una casa editrice importante e da libreria. Quelli on demand non vengono fatti, sostanzialmente non viene fatta promozione, vengono sostanzialmente classificati come dei self-publishing, solo che vengono etichettati con questo marchio io scrittore e messi su Amazon. Questa è la differenza. Si freggiano del marchio di editore io scrittore. Giusto, sbagliato, ne ho già discusso in precedenza. È un torneo gratuito, altro elemento pressoché unico nel panorama dei concorsi italiani nazionali, da possibilità di avere dei feedback di 10, 12, 15 lettori del romanzo che si invia, dalla possibilità di essere scoperti dai talent scout e cacciatori di teste che girano, che si aggirano per il concorso e che cercano di tirare fuori qualche buon romanzo da vendere, da estrapolare dal concorso, dal torneo, e venderlo parallelamente e fargli fare una strada esterna parallela al concorso per mandarlo alle stampe. È successo. Cosimo Bucarella ha pubblicato l'anno scorso, quindi è una cosa che esiste veramente. Il fuoriposto si chiama il suo romanzo. Detto questo, è poi il fatto comunque di confrontarsi con una community che sono sostanzialmente i gruppi Facebook Satelliti al Torneo, cioè il cazzeggio di io scrittore, io scrittore libero, ci dovrebbe essere anche il caffè di io scrittore, ma non partecipo più a quel gruppo. Troppa, troppa roba non mi interessa. E quindi questi sono i vantaggi dei feedback e la possibilità di arrivare da qualche parte gratuitamente, per riassumere. I difetti. Vediamo velocemente i difetti come ultimo capitolo di questa, o quello che io migliorerei diciamo più che i difetti. La prima cosa è che secondo me, secondo me, farne passare 400 è già troppo, per come la vedo io. Ma partiamo con ordine. La prima cosa che io mi trovo a criticare è che il concetto di incipit non può prevedere 60, tra le 30 e le 60 mila battute. Anche io ne ho mandato quasi 60 mila perché chiaramente qual è il meccanismo che spinge? Il meccanismo che spinge è che se è un testo ben scritto, più chi ti legge ha materiale da valutare, più la sua valutazione sarà obiettiva e quindi possibilmente valuterei i personaggi, la trama, l'ambientazione, la lingua, eccetera. I quattro parametri di cui vi ho parlato l'altra volta. Quindi più carne nel fuoco migliore il risultato. E questo è quello che fanno più o meno tutti. Nessuno manda incipit da 30 mila battute. Sono tutti vicini alle 60 mila, che è il termine massimo. Perché questa cosa è sbagliata? Beh, perché il vero incipit, il vero incipit non può essere 60 mila battute che è oltre un racconto breve. Quindi, per come la vedo io, avrei messo 10-15 mila battute che è già fuori dall'incipit. L'incipit è veramente il primo paragrafo, ma è chiaro che uno non può giudicare il primo paragrafo diventerebbe una lotta a chi fa la frase più effetto, eccetera. Però, come vi ho detto altre volte, 10-15 mila battute, cioè 4-5-12 cartelle editoriali, sono più che sufficienti a valutare... No. Mi ha abbandonato la luce, continuo. 10-12, 5-10 cartelle, cioè tra le 10.000 e le 20.000 battute, sono più che sufficienti a valutare la qualità di un testo. Non potrete valutare la storia, non potrete valutare tutti i personaggi, non potrete valutare tantissime cose, ma perché la storia? Valutare una storia è impossibile valutarla anche con 60.000 battute, serve tutto un romanzo. Perché magari, come è successo nel mio caso in questo invio, il colpo di scena resta fuori per un soffio e quindi è inutile valutare la storia su un incipit. Su un incipit valuti la qualità della scrittura, se una persona sa scrivere in italiano, le solite cose, se uno è bravo a scrivere, questo puoi valutare da un incipit. Se i personaggi sono interessanti, se il contesto è interessante, ma non di più, un assaggio. Quindi avrei limitato l'incipit a 10-14.000 battute, finito, oppure il primo capitolo, chiaramente con un limite spaziale, se il primo capitolo non esiste e dura 200.000 battute, è chiaro che non si può. 10-12.000-15.000 battute avrei limitato a questo. Il secondo elemento è che non possono passare 400 racconti, non possono passare 400 racconti perché sono decisamente troppi. Perché francamente tra i 12 che sono passati non erano tutti malissimo, ma diciamo che quasi la metà poteva tranquillamente essere bocciato, essere eliminato. Io la strutturerei così. Farei incipit molto più corti, letti da molti più lettori, ma molti più lettori, cioè un incipit da 12.000 battute, 15.000 battute si legge in un quarto d'ora, un quarto d'ora. Metti 20 incipit da valutare da 10.000 battute l'uno, che sono molto meno, facciamo la stessa quantità di battute che uno deve valutare in quel periodo di tempo iniziale, ma tu stai valutando molti più racconti. E soprattutto io quello che farei è mettere obbligatori i voti. Non sufficiente, discreto, buono, ottimo. No, no, no. Un voto numerico, 7,7,5, 8,8,5. I voti veri numerici ci devono essere e devono essere in chiaro, chiaramente per chi riceve i giudizi, perché questo è importantissimo, perché il giudizio può essere una cosa e il voto può essere un'altra. Io farì questo, quindi più lettori per uno stesso incipit, incipit più corto, dopodiché la selezione deve essere molto più dura, ne devono passare la metà di quelli che passano oggi, cioè non più 300 o 400 come oggi, ma 200. E questi 200, i romanzi interi dei 200, devono essere fatti leggere al maggior numero di persone possibili, 15, 15. Questo comporta che cosa? Che i romanzi che arrivano in finale non possono essere di 800.000 battute, cioè 400 pagine è una cifra troppo alta. Io avrei messo un limite, ma questo forse è un mio limite personale, ma io trovo ingiusto che una persona si debba essere obbligata a leggere 400 pagine di un romanzo che fa schifo. Perché vi ripeto, il rischio è che uno molli a metà la lettura di quel romanzo oppure all'inizio di quel romanzo perché è scritto male e non si butta tempo a fare cose inutili. Quindi il giudizio sarà viziato ad una carenza del giudice di valutare l'opera completa, ma questo è comprensibile perché sono cose illegibili e tu la scarti. O come faccio quei libri che non mi piacciono, li apro e li chiudo. Questo è un rischio molto concreto. Se invece la lunghezza dei testi venisse limitata a, diciamo, tra le 400 e le 500.000 battute invece che 800.000, stiamo parlando tra le 200 e le 300 pagine di romanzo, cosa fattibilissima e giustissima? Perché la qualità non ha bisogno di quantità, di questa cosa ve ne ho già parlato nel problema delle dimensioni, in quel video lì. Capite che un buon romanzo ci può stare in 300 pagine, soprattutto se è di un esordiente. Chi si legge 500-800 pagine di un esordiente? Chi si legge un fantasy di 600 pagine di uno sconosciuto? Nessuno. O è un caso letterario, la Aucci, chi volete voi, la Porta Lettere, questi romanzi qui che esplodono, ma è difficile che in un concorso così esploda il romanzo. Quello se lo trovano lo vendono loro per i fatti loro. Quindi dimensioni più compatte, maggior numero di esaminatori nella fase 2 del concorso e soprattutto, secondo me, un impegno maggiore degli editor e delle persone che girano nel concorso nello screening dei romanzi valutabili per una pubblicazione parallela. Perché ci sono stati dei romanzi che mi sono capitati o che sentendo sono capitati di persone di cui io so che sanno veramente valutare un testo, non dei disperati che dicono tutti i dieci, tutti i romanzi bellissimi, di persone di cui io conosco le competenze, so che si dicono che un buon romanzo ci posso credere e sono romanzi che non sono saltati fuori nella decina. E quindi, ancora una volta, io penso che un po' più di attenzione da parte degli editor del gruppo non sarebbe male. Sempre in questa logica, io direi che un gruppo come la James, che mette su questo carrozzone gigantesco, che impegna persone, risorse anche loro, che è presentato al Tao Book di Taurbina e al Book City di Milano. Ma, voglio dire, non è che ti sprechi se invece di un solo titolo su carta, magari, invece di fare i dieci peones che vincono dici, ne pubblichiamo tre in cartaccio. In queste case editrici, ognuno in base alla competenza, oppure decidiamo due romanzi, oppure, non lo so, cinque, cinque romanzi vincitori. Questi hanno tutti il diritto a un cartaceo. La casa editrice la decidiamo noi, ma da tre a cinque questi devono vincere. Gli altri li segnaliamo, li teniamo in conto, può essere che abbiano un valore, ma la cosa di stare nel gruppo dei peones con la targhetta io scrittore, sul libro, su un ebook, che non viene sponsorizzato, che non dà royalties, che non dà nessuna visibilità, è una presa in giro, per come la vedo io. E questa è una cosa che mi è stata confermata anche da tanti che hanno vinto l'ebook con la marchio io scrittore, che poi non va da nessuna parte, a meno che uno non sia, ripeto, una persona che fa video su YouTube, una persona che ha una sua fama, indipendentemente dal suo libro, allora la vende. Un caso per tutti, Stefania Crepaldi. Se non la conoscete, cercatela su YouTube. Quindi capite che è un po' un self-publishing mascherato per fare hype nel torneo. E io questa la trovo una cosa concettualmente un po' disonesta, perché un gruppo gigantesco come il gruppo James, che credo che sia il terzo, se non il quarto gruppo editoriale italiano, ha la potenza di fuoco per pubblicare in cartaccio e distribuire tre libri libri. Essendo parte delle messaggerie comunque, sapete, le distribuzioni sono il problema. E il gruppo James ha in mano una grossissima catena di distribuzione. Quindi le carte, i numeri, la potenza di fuoco ce l'ha volendo. E dopo, adesso non so che edizione sia questa, hanno iniziato nel 2004, non mi ricordo più. Comunque, sedicesima, diciottesima edizione, non mi ricordo più. Ma sono tante le edizioni. Quindi in questi anni, loro hanno fatto cassetta con questa cosa, sta richiamando fatelo un po' più serio, amici di James, e fatelo questo salto di qualità. E pubblicateli tre o cinque, sprecatevi cinque romanzi, ma pubblicateli in cartaceo, promuoveteli, perché se non noi, che siamo qua a spaccarci le ossa, come ho fatto vedere con Terence Hill, spaccatevi le ossa e che rimane in piedi lo salvo vivo. Ci siamo rotti le scatole di spaccarci le ossa tra di noi. È divertente perché si chiacchiera tra quelli che si conoscono, si fanno i giochi, eccetera. Ma poi, l'ambizione che potevo avere io l'anno scorso, ti passa la voglia dopo che veramente entri nel meccanismo e capisci come vanno le cose. Per cui, se lo dovete fare, fatelo seriamente, amici di James. Fatelo seriamente, dando la giusta importanza che deve essere attribuita a persone che comunque stanno sputtando sangue per scrivere un libro più o meno lungo, più o meno buono, ma hanno lavorato su questa cosa. Abbiate rispetto per il lavoro di chi scrive e chi partecipa al vostro torneo. Abbiate rispetto. Questa è la cosa che chiedo io. Il che vuol dire che vincono in tre, vincono in cinque, ma quei cinque devono essere dei vincitori, non dei peones che gli si dà la caramellina, sì sì ciao, ci vediamo l'anno prossimo, tieni lo zuccherino così la mandi giù meglio. No, non è accettabile questo, non è più accettabile, secondo me. E ripeto, lo dico non per demolire un concorso o un torneo, lo dico per il fatto che, essendo un'ottima iniziativa alla quale io continuo a partecipare e ci sarà un motivo, è un consiglio non distruttivo, è una critica costruttiva per migliorare qualcosa che già è buono, che già ha un senso, ma come il solito in Italia si sta a metà perché tanto e tanto ci sono quelli, chi se ne frega va bene comunque. No, abbiate l'ambizione di fare qualcosa di buono, di eccezionale, non una cosa che tanto va con le sue gambe e chi se ne frega, tanto stiamo lì nel mezzo e ci va bene lo stesso. Cercate di fare una cosa di qualità. Questo è il punto, per come la vedo io. Quindi, riassumendo, meno incipit più corti, meno incipit che passano la fase 2, premi al vincitore che deve essere un vincitore vero più alti e maggiore ingerenza degli editor nella valutazione dei romanzi che passano o meno la fase 2. Questo è quello che chiedo. Non verrà esaudito, chiaramente lo so nessuno io, per far cambiare le cose al gruppo James. Però, se sotto qua nei commenti scrivete e mi dite cosa ne pensate, se sono proposte sensate, può darsi che qualcuno, prima o poi sentendo, parlando, dicendo, argomentando, eccetera eccetera, può darsi che prima o poi qualcuno mangi la foglia e capisca che non sarebbe male. Visto che c'è comunque questo zoccolo duro di persone che, nonostante tutto, dimostrano attaccamento alla maglia, non sarebbe male far vedere per una volta tanto che quella maglia ha un valore. Grazie per avermi seguito anche in questo video. Alla prossima.